Siamo arrivati all'inizio del campionato con un grande desiderio di iniziare questa nuova avventura, quindi c'è anche un'emozione nel partire con questo nuovo campionato, con questa nuova squadra, in questo posto dove fino adesso abbiamo sentito sicuramente dell'affetto intorno a noi e una voglia anche da parte dei tifosi di iniziare il campionato. Quindi domenica si parte, a livello fisico abbiamo avuto solo qualche intopo durante la settimana con Pini e Cervi però tutti e due abbastanza gestibili, oggi sono allenati tutti e due quindi faranno parte della partita e niente, abbiamo usato la nostra settimana per lavorare un po' più ancora sui nostri concetti difensivi e offensivi e qualche situazione importante di Pesaro a modo di preparazione della gara. Ecco non tanto di più, sappiamo che giochiamo in casa nostra, sappiamo che è la prima gara ufficiale davanti al nostro pubblico, ci si gioca subito una partita contro una squadra che molti ritengono è quella che retrocede o non retrocede, a me sembra invece che bisogna pensarla un po' diversamente in questo campionato, lo dicevo prima con dei colleghi quando sono andato in trasmissione, io credo che ci siano quattro squadre di una portata nettamente superiore che sono Venezia, Reggio Emilia, Milano e Sassari, sono superiori per un discorso economico, per un discorso di qualità di giocatori che hanno preso per qualcuna per la stabilità che ha mantenuto come Venezia con il possibile miglioramento, Sassari ha cambiato un po' da campione d'Italia ma ha cambiato in meglio se era possibile farlo e quindi mi sembra che queste quattro squadre, a meno di una sorpresa grandissima, siano di un livello superiore a tutte le altre, poi delle altre 12 io vedo che c'è veramente grandissimo equilibrio e c'è anche la curiosità di scoprire chi saranno le squadre che occuperanno gli altri quattro posti del playoff, siamo in Linz anche noi e ci mettiamo lì con grande dedizione, grande ardore, con grande volontà nel cercare di raggiungere questi obiettivi. Pesaro mi sembra una squadra ben costruita, ha preso dei giocatori molto atletici che ognuno fa il proprio ruolo, hanno preso un 4 con 4, un 5 con 5, un playmaker molto atletico, una guardia un'ala piccola, una serie di quintetto americano secondo me molto ben distribuito e hanno fatto una panchina invece tutta italiana di giovani, però sono giovani che io ho avuto la fortuna di allenare e sono passati tutti per l'Under 20, Gazzotti è quello sicuramente che si è più contraddistinto nel suo miglioramento in questi anni, Candus è un prospetto per la palacanessa italiana molto molto importante, con i suoi centimetri e anche col tocco delle mani buonissimo che ha, Basile è un po' quello che è capitano, l'anima di Ferocia che cambia il playmaker e poi sta facendo un pre-campionato, un giocatore che a mio avviso farà nei prossimi anni, sarà un giocatore sempre più importante nel nostro campionato italiano, che è Ceron, sta viaggiando a 11-12 punti di media a partire nel preciso, ha fatto partite con 18-20 punti di media, ha veramente tanto talento offensivo, io lo conosco bene perché è stato con me due anni, e adesso è veramente sbocciato completamente, ha anche una possibilità in una rotazione di 5 esterni che hanno di avere tanti minuti, quindi mettersi in grande evidenza. Paolini è un allenatore che ha fatto tante minus, che è abituato ad allenare il settore giovanile, nel far crescere i giovani, credo che sia una squadra anche fatta abbastanza per le sue qualità, nel poter tirare fuori il meglio da loro, quindi la partita in cui si parte 0-0, io credo, ripeto, tranne le prime quattro, che sentire poi seconda, terza fascia, quarta fascia, secondo me invece sono tutte quasi uguali, e poi dopo sarà il campionato a dire chi è meglio e chi no. Senti, affronti questo inizio di campionato, conferenza stampa di inizio per la sedicesima volta, che sensazioni hai, diverse rispetto al passato, sono sempre le stesse? No, io, sai, quando dopo ritorni in un posto, il secondo anno, il terzo anno, poi dopo un po' ci prendi l'abitudine, quando vieni qua per la prima volta, hai le sensazioni un po' ancora da bambino, cioè, quello che scopre delle cose nuove, e rivedo, questo è il mio sedicesimo anno, che sarò il campionato di Serie A, però c'è ancora, c'è già emozione, si comincia a dormire un po' meno, si comincia a pensarsi per la partita, noto che anche nei giocatori, piano piano, la settimana, comincia ad avere un certo tipo di, c'è un'area un po' più pesante, però insomma, un po' più elettrica, perché ci avviciniamo alla gara, a me viene da pensare di, pensavo tra me e me, che fortuna che ho, che ancora una volta ho questa possibilità di potermi fare una bella annata, in una città tutta da scoprire, in un posto tutto da scoprire, che però ci ha già fatto vedere che c'è stata vicino e che c'è dell'affetto, poi, a me viene ripetuto tantissime volte, gli anni precedenti, i confronti, mi sembra che la società abbia fatto molto bene, Gianandrea è stato molto presente in tutto quello che noi abbiamo fatto, con Nicola c'è un continuo lavoro sui giocatori, tante cose messe insieme che ci danno grande stimolo nell'iniziare, ecco, questo è una cosa che si sente e speriamo di partire bene, perché una squadra così nuova, anche della fiducia, ci aiuterebbe nel caricare ancora più di lavoro, perché ne abbiamo fatto tanto, anche a livello non solo qualitativo, ma, per dire la verità, anche a livello quantitativo, perché spessissimo gli orari e i pomeridiani superavano le due ore di allenamento intenso, tanto lavoro la mattina, e quindi l'iniziare bene ti porta sempre un grande beneficio. Qua ci volevo chiederti, per centri del battesimo con i ragazzini terribili di Paolini, dove io sento i colleghi di Pesaro che ne parlano entusiasticamente, anche lì c'è molta fiducia in questa squadra, anche se è molto giovane, poi ci saranno due squadre dal tasso tecnico molto molto difficile da affrontare, tu pensi che a livello di preparazione avremo superato il gap per quel periodo? Beh, io adesso non penso tantissimo alle prossime due, penso solo a Pesaro, sicuramente loro sono molto atletici e sono una squadra di giovani che corre il campo benissimo, con un grande atletismo. Io ho allenato a Pesaro per due anni, quindi so bene, ho un bel ricordo perché sono rimasto affezionato, è un posto incantevole dove si sta davvero bene e la gente va molto su e giù, nel senso che c'è un grande entusiasmo e poi dopo c'è una depressione totale alle prime sconfitte, quindi Pesaro è molto umorale sotto questo aspetto ed è chiaro che questa squadra giovane, avendo iniziato un pre-season fatto molto bene, ha già portato grande entusiasmo, quindi vedremo, da questo punto di vista atletico, io credo che noi meglio di così non potevamo arrivare, nel senso che abbiamo veramente sfruttato qualsiasi secondo a disposizione per poter lavorare e lo dico senza ruffianeria nei confronti dei giocatori, i giocatori sono resi molto molto disponibili anche a volte, ogni tanto a fare sovraccarichi, a fare qualche cosa in più. Poi se saremo pronti, questo non lo so, ecco, perché comunque ci vuole anche il tempo necessario. Sì, dobbiamo vedere. Coach, io devo chiedere questo. Quanto può contare in questo avvio l'avere comunque i giocatori di grande esperienza, soprattutto contro una squadra giovane che penso cercherà di avere un ritmo alto e correre tanto incontro più? Beh, io spero che conti tutto. No, è una battuta, spero che conti tantissimo per far valere la nostra esperienza. Però è vero anche che nel pre-season è molto difficile incontrare queste squadre, è molto più facile incontrarle magari quando tu hai avviato la stagione e c'è un'identità un po' più precisa. Nostre domande? Coach, sai che la prima non la vinciamo da qualche anno? Non la vinciamo da qualche anno. Vinciamo da un giorno. Si vede da sotto. Speriamo di cambiare la tendenza. Ieri è venuto un tifoso e ci ha fatto cambiare le retine. Poi è venuto... Cosa è il vescovo? No, no, no. C'è stato mica il vescovo o qualche affatto. Il vescovo è venuto qua e ci ha messo la palestra. e insomma... Speriamo che... Tutto fa brodo. Tutto fa brodo. Speriamo di cambiare la tendenza. Sì, no, era tanto tempo. Non vedevo un'allegria così negli allenamenti. con i ragazzi si divertivano. C'è anche fatto con una sola mano da 40 metri. Insomma, i ragazzi si divertono. Quindi non è solamente un pezzo di lavoro. Questo secondo me è un discorso un po' più serio. Nel senso che io sono assolutamente convinto che loro e anche io e tutti noi siamo dei privilegiati nel fare questo lavoro e credo che sia importante mantenere non dico l'allegria a livello superficiale ma ti deve piacere lo stare qui. Io ho fatto quando vedo i giocatori che non scappano appena finito l'allenamento che vanno via ma rimangono qui vuol dire che è già centrato un bello obiettivo ecco perché perché vuol dire cioè qualcuno non va perché magari c'è la moglie che lo aspetta e che io sto fuori in casa meglio ecco perché io non faccio noi perché è da ridere che c'è un giocatore a caserta che sarà di tutto il giorno ma la casa mia moglie aspetta sto vivendo l'allenamento però voglio dire uno ogni tanto sugli altri quando li vedi che stanno qui con piacere io in sera abbiamo fatto una serata tutti insieme dopo la presentazione della maglia essere qui finisce l'allenamento rimangono parlano fanno vuol dire che il posto comunque piace ai ragazzi e anche l'allenarsi quando dopo comincia a vedere la gente che scappa via che non vedono l'allora che è venuto prima abbiamo venuto dopo si comincia a preoccuparsi per quello che al di là che è la cosa più importante di tutti che sono i due punti mi piacerebbe davvero cominciare cambiando questa abitudine del perdere iniziale anche per dare a loro un senso di fiducia che il lavoro che stiamo facendo che ripeto è un divertimento tutto quello che noi facciamo però con loro abbiamo forzato un po' la mano per evidenti motivi insomma perché era giusto fare così e se parti con delle vittorie la fiducia soprattutto in un gruppo nuovo anche poi quando i gruppi vecchi meno male poi si ritrovano dicono abbiamo perso le partite ma adesso cominciamo facciamo invece la fiducia è un po' contagiosa ecco dal pubblico tu stesso mi dicevi appesa lo chiamano sono già entusiasti perché la squadra ha giocato bene e dà subito fiducia a tutti l'ambiente poi è un ambiente che si crea ecco io sono sono così sempre un po' propositivo su questo aspetto io credo che è vero che tutto parte dai giocatori in campo però poi parte anche da quelli che stanno a fianco dallo staff dalla dirigenza dal pubblico dal paese che ti accoglie quando si crea qualcosa di più familiare che tu ci stai bene è molto più piacevole anche fare qualche sacrificio in più una curiosità scelto il capitano? si Bloom's intanto perché è più vecchio e anche capitano della rettonia la rettonia pensiamo speriamo intanto è più vecchio ma è quello che ha fatto più esperienza bene o male nei campionati europei insieme ad Alex Hacker e poi mi sembra che sia il giocatore forse con più piglio con più con più personalità in certe situazioni se la possa cavare mentalmente più perché a me domani la parla 2 si farà buttare fuori se la aveva cercato immediatamente mi hai fugato con i lunghi se non la dì all'inizio mi dicevi che non lo conoscevi avevi bisogno sì va bene no no va bene sembra che stia crescendo molto insieme a tutti gli altri vi ricordo l'unica mia preoccupazione se la mia preoccupazione che ho in questo periodo qui è un po' la gestione dei due lunghi tra Cerde e Pini perché soprattutto Cerde è molto condizionante per il nostro allenamento perché abbiamo bisogno di cioè quando c'è lui noi dobbiamo fare delle cose quando non c'è lui noi facciamo delle altre e quindi il fatto che lui sia un po' dentro fuori un po' mi condiziona sulla mia qualità del lavoro Pini molto meno anche se ha saltato qualche allenamento per la schiena era rimasto bloccato in un movimento in allenamento poi meno male Pini è quello lì ecco e la squadra si abitua un po' con lui però fare senza due lunghi o tutti insieme o uno alla volta questo ci ha un pochino danneggiato però mi dà un minimo di preoccupazione però oggi sono allenati ci siamo problemi quando poi si gioca non esistono in campo non esistono più grazie 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 grazie